Manca poco più di un mese all'edizione 2013 del mercato europeo e sono state decise le date del nono appuntamento. Il 6, 7 e 8 settembre il pubblico passeggio ospiterà la manifestazione giunta alla nona edizione. Circa 130 i banchi attesi da Germania, Inghilterra, Francia e Spagna per citarne i principali. Tra le novità di quest'anno, gli spettacoli di animazione che proporranno alcuni ambulanti. Come sempre ci sarà anche la partecipazione piacentina. Gli organizzatori stanno studiando di creare una sorta di salotto locale con le nostre specialità. Lo stesso weekend, Piacenza ospiterà anche il festival musicale Tendenze allo Spazio 4. Per la diciannovesima edizione la giunta ha approvato un contributo di 13.000 euro.